Ciao amici, andava di scena oggi la tappa Carcassonne-Foy. I chilometri erano 178 con quattro gran premi della montagna. Gli ultimi due di prima categoria, il Port de Lers e il Mûr de Beguer. Abbiamo visto la corsa nella corsa, come spesso accade in queste frazioni, una tappa caratterizzata da questa fuga iniziale di tanti corridori, che ha visto poi la galoppata solitaria di Ugo Hule, il corridore da Israel Premier Tech, che vince meritatamente una frazione importante, la prima frazione pirenaica. Per quanto concerne gli uomini di classifica, sicuramente va segnalata la defaianza di Bardet e di Yates. Thomas, ripetutamente staccato, è riuscito a metterci una pezza. E invece molto bene, direi, Vingegaard, Pogacar e lo stesso Nairo Quintana. Va sottolineato il grandissimo lavoro per quanto concerne Vingegaard, Jonas Vingegaard, dei suoi compagni di squadra. Kuss, che è stato quasi sempre in sua compagnia e poi strada facendo, proprio allo scollinamento del Mûr de Beguer, hanno trovato anche Van Aert, che faceva parte della fuga iniziale e, una volta che si è staccato dalla testa della corsa, ha fatto il suo passo e proprio allo scollinamento, poco dopo lo scollinamento di questo ultimo colle di prima categoria, ha ritrovato la maglia gialla e l'ha praticamente pilotata fino all'arrivo di Foix. Bellissima tappa, sicuramente una tappa intermedia e adesso aspetta ai corridori due tappone, anche se non nel chilometraggio, altre due tappone pirenaiche. Sono poco meno, poco più di 130 km, la tappa di domani e la tappa di giovedì, ma entrambe con l'arrivo in salita e per quel che abbiamo visto oggi sicuramente sarà una sfida, un testa a testa, fra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar e vedremo chi dei due l'avrà vinta. Ciao, alla prossima!